Buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro e vi porto il saluto della Fondazione Pordenone Legge, grazie di essere qui, di essere qui in presenza, quest'anno è importante esserci con tutte le difficoltà ma esserci e noi siamo felici molto di questo, io ringrazio moltissimo Credit Agricole Fuladria, partner di questo evento, ma ringrazio moltissimo il nostro ospite in collegamento da New York, Federico Rampini, adesso dovrebbe comparire, eccolo, eccolo, grazie mille. Io vorrei che le arrivasse il nostro applauso da Pordenone. Grazie, grazie di essere con noi, grazie, è davvero una gioia e un onore averla anche in collegamento ma insomma la sentiamo vicina. Il libro di cui parliamo oggi, di Federico Rampini, uscito per Renaudi, è Oriente, Occidente, Massa e Individuo. Vi dico subito, mi permetta una parentesi, è possibile anche portare, prendere il libro e avere la copia firmata, li trovate in vendita lì perché abbiamo realizzato degli ex libris, che vi faccio vedere perché sono molto carini, personalizzati con il logo di Pordenone Legge, che Federico Rampini ha firmato da lontano e quindi sarà possibile avere anche la copia autografata, perché quest'anno purtroppo è una cosa non fattibile in presenza, ma ancora di più anche da New York arriva la copia autografata. Federico Rampini è a New York, lo sapete, corrispondente di Repubblica da New York e questo libro è un libro importante proprio perché mette insieme anche le sue due anime e quindi l'Oriente e l'Occidente, l'Oriente che lui conosce benissimo e ci ha raccontato in maniera magistrale in tanti anni e l'Occidente dall'altra parte appunto che ci sta raccontando in questi tempi anche così complessi. E quest'analisi proprio di questa dicotomia, di questa contrapposizione è ancora più importante nei momenti che stiamo vivendo, in questi tempi di pandemia, in questi tempi segnati dal coronavirus. Con noi qui doveva esserci proprio per intervistare Federico Rampini il direttore del Gazzettino Roberto Papetti che in questo momento è bloccato con un grosso incidente in autostrada, non coinvolto lui direttamente, ma quindi c'è questo contrattempo che dovrebbe comunque consentirci la sua presenza qui tra poco, però noi intanto partiamo con questo incontro, Federico Rampini inizierà il racconto di questo suo ultimo libro e il direttore Roberto Papetti che comunque ringrazio di aver accettato l'invito dovrebbe arrivare in corsa insomma. E quindi partiamo. Federico Rampini, grazie, grazie davvero. Grazie a voi. Grazie a tutti voi. Grazie a voi, un saluto molto affettuoso da New York, anch'io avrei preferito di gran lunga essere lì in mezzo a voi perché sapete che sono un frequentatore assiduo del vostro festival e il contatto con voi, il contatto umano è insostituibile, però dobbiamo accontentarci finché l'emergenza rimane. Devo dire tra l'altro che essere a Pordenone per me sarebbe stato anche, come dire, un modo per avvicinarmi ad alcuni dei temi del libro perché questo rapporto tra Oriente e Occidente in fondo si è spinto fino alla periferia di casa vostra. Pordenone è in una zona d'Italia che è molto vicina all'Oriente per tante ragioni storiche. In fondo l'impero ottomano arrivò abbastanza vicino, prima ancora se vogliamo Bisanzio, no? Cioè l'Oriente è fatto di tante cose. È vero, io nella mia vita ho unito Oriente e Occidente in questo momento da undici anni vivo a New York, ma vent'anni fa vivevo in un occidente ancora più estremo, la California, abitavo a San Francisco che è una città che è proiettata verso l'Asia, quindi una specie di ponte come Pordenone tra le due realtà. Poi però in mezzo a queste due Americhe io ho anche vissuto cinque anni a Pechino. Quindi questo libro nasce dalla mia vita, è un libro di vita vissuta, di luoghi che conosco, di personaggi, di storie, però è un libro diverso dagli altri perché non è un libro sull'attualità, non è prevalentemente un libro di geopolitica, anche se l'attualità fa capolino proprio alla fine, nella conclusione. No, questo è un libro di storia. È un libro in cui io vi porto in viaggio con me, in un viaggio che attraversa terre lontanissime, ma attraversa anche delle epoche lontanissime e in un certo senso ho spremuto in questo libro 30-40 anni delle mie letture su questi temi, cioè un condensato di tutto quello che ho letto, che ho appreso man mano che andando a vivere in quelle zone del mondo, in Cina, ma io ho passato anche lunghi periodi in India, in Giappone, in Vietnam, in Indonesia, portavo sempre con me delle biblioteche per cercare di capire sotto la superficie, sotto l'apparenza, qual era la storia di quelle civiltà. E allora, vedete, in questo libro ho voluto un po' fare un bilancio, un bilancio di un tema che ci accompagna o ci insegue, ci ossessiona da 2.500 anni. Dico 2.500 anni non a caso, è un numero che ha un senso, perché vedete, 2.500, 2.600 anni fa, grosso modo, intanto vuol dire risalire a una delle origini della civiltà orientale, è l'epoca, grosso modo, di Confucio e di Buddha, due giganti nella storia del pensiero umano, ma in particolare della civiltà, orientale. Buddha in India, Confucio in Cina, uno è il fondatore di una religione, anche se il termine religione, nel caso del buddismo, va spiegato bene. Papa Voitiwa la definì una religione atea, era molto sospettoso nei confronti della penetrazione del buddismo in Occidente. L'altro Confucio invece non ha fondato una religione, era uno scienziato della politica, era il vero fondatore della scienza politica, molto prima di un certo Niccolò Machiavelli. E tuttora tutto il pensiero confuciano sull'arte del buon governo, le regole di un buon governo, influenza la vita di due miliardi di persone, tra Cina, Giappone, Corea, Vietnam, quel mondo là. Questi giganti del pensiero umano 2.600 anni fa cominciano a irradiare la loro influenza anche verso di noi. Pensate che il buddismo si affaccia sulle rive del Mediterraneo, precisamente in Siria, quella che oggi è la Siria, nel V secolo a.C. E tutta la filosofia presocratica in Grecia è influenzata dall'antica filosofia indiana. Allora, vedete, il punto di partenza di questo mio viaggio nella storia, nella storia dei tempi lunghi, è il momento in cui proprio i greci, i nostri antenati, perché noi veniamo da un patrimonio, una civiltà greco-romana, poi anche giudaico-cristiana, ma quella è un'altra storia ancora, ma cominciamo dai nostri antenati greci. Beh, i greci sono i primi che cominciano a raffigurarsi il mondo, la storia umana, in termini di bipolarismo tra Oriente e Occidente. E il modo in cui l'hanno impostato i greci è stato così denso che ha continuato a influenzarci fino ad oggi. Vedete, quando è che i greci cominciano a raccontare questa storia umana in termini di uno scontro-incontro tra Oriente e Occidente? Beh, soprattutto quando Erodoto, il fondatore della disciplina storica, racconta le guerre tra Grecia e Persia, perché l'Oriente comincia alle porte della Grecia e, ai tempi di Erodoto, è l'impero persiano. Vedete la Persia, che oggi è l'Iran ovviamente, è stato uno, anche per noi, nei duemila anni successivi, è sempre stato uno degli intermediari dei rapporti anche con l'Oriente più lontano. Le vie della seta attraversavano la Persia per arrivare in India, in Cina. Allora, Erodoto è un greco etnicamente, linguisticamente, e culturalmente, ma in realtà è un suddito dell'impero persiano. Lui vive sulle coste dell'Asia minore, quella che oggi sarebbe la Turchia, sotto l'impero persiano, però sta dalla parte dei greci nelle guerre, no? Per lui sono guerre di liberazione e, alla fine, il modo in cui ce le descrive ci propone un archetipo, una sorta di paradigma che non ci ha mai più abbandonato da lui. Da una parte abbiamo un impero enorme, smisurato, gigantesco, la Persia, con degli eserciti potentissimi, sterminati, sotto gli ordini di un imperatore che è una figura quasi sacrale, divina. Dall'altra abbiamo i greci, che sono pochi in confronto, però alla fine vincono i greci, perché sono pochi ma sono degli individui, con delle personalità fortissime. Il mito dell'eroe greco, poi è un mito ovviamente omerico, no? L'Odissea, l'Iliade. Ecco, allora è così che con Erodoto nasce in embrione quest'idea importantissima. Di là, in Asia, in Oriente, è il regno della massa, la massa. Di qua, da noi, Europa, Occidente, l'individuo. Siamo pochi, ma in fondo, grazie a questa nostra individualità fortissima, abbiamo una marcia in più. E allora vedete nascere molto, molto prima che queste idee vengano riformulate nel pensiero moderno, il concetto del dispotismo orientale. L'Oriente è un luogo di grandi imperi autoritari. L'Occidente è il luogo dell'individualismo, che poi diventerà anche libertà, diritti, democrazia. E non ci ha mai abbandonato quest'idea. Nell'Ottocento Karl Marx userà proprio il termine dispotismo orientale per le sue teorie su quelle società asiatiche. Vedete, questa è una storia interessantissima perché poi ha alimentato veri e propri scontri di civiltà. E partendo da quella storia lì, io comincio il mio viaggio e vi racconto come ci siamo raccontati gli uni gli altri, come ci siamo scoperti, come abbiamo costruito anche dei miti, delle leggende per rappresentarci. Una premessa che va fatta è questa. Il bipolarismo Oriente-Occidente è molto artificiale. Non solo perché in mezzo ci sono una serie di territori intermedi. Prima ho citato la Persia, ma pensate in fondo una città che io racconto anche proprio per la sua importanza storica. Una città come Istanbul. Beh, è metà in Europa e metà in Asia. È una mescolanza, è quasi impossibile districare la parte di influenza occidentale da quella orientale. Quindi è tutto molto più mescolato di quanto si voglia credere. Ma soprattutto in quel bipolarismo inventato dal pensiero greco 2500 anni fa c'è una nostra arroganza. Perché non si può teorizzare che Oriente-Occidente sono i due poli della realtà. Uno è molto più grande dell'altro. Non c'è equivalenza. L'Oriente è smisurato in confronto a noi. Pensate alla geografia. L'Asia è gigantesca. L'Europa è una piccola propaggine, una penisola periferica che fa parte di una massa continentale eurasiatica. La popolazione. C'è sempre stata molta più popolazione in Asia che non in Europa. I rapporti di forze sono totalmente squilibrati in loro favore. Perfino la profondità storica. Loro hanno una storia molto più antica della nostra. Noi ci vantiamo come eredi della civiltà greco-romana di essere molto antichi. Ma quando nasce Roma, quando nasce Roma, la Cina, la civiltà cinese ha già almeno duemila anni di storia alle spalle. Noi in realtà siamo molto più recenti. Vedete come il rapporto è squilibrato su tutti. E infatti in questo squilibrio noi abbiamo delle realtà storiche come le grandi invasioni, le grandi migrazioni sono state per lo più da est verso ovest. Perché a est c'era molta più popolazione. I flussi dei barbari invasori erano dagli unni agli ostrogoti, ai mongoli ovviamente. Per lo più venivano da est e andavano verso ovest. È stato molto più raro che accadesse contrario. Anche se quando è accaduto noi siamo andati là e abbiamo conquistato intere colonie. Quindi non è un episodio marginale, anche questo è importante nel mio libro. Ma vedete l'equilibrio tra Oriente e Occidente è che quasi sempre in questi 2500 anni di storia noi abbiamo avuto degli enormi complessi di inferiorità. E questo lo racconto. Io racconto questi 2500 anni di scoperta. Siamo stati più spesso noi a dover andare a scoprire loro perché loro erano molto ma molto superiori. E allora ecco la storia fondamentale di un personaggio straordinario come Marco Polo. Non bisogna mai mai smettere di rileggere il milione di Marco Polo. Un'opera che ha avuto un'influenza enorme sui secoli successivi. Pensate che Cristoforo Colombo non sarebbe mai venuto qui a scoprire l'America dove mi trovo adesso se non avesse letto il milione di Marco Polo. Il milione che si chiama così perché non è il titolo di quel libro. Si chiama così perché i suoi contemporanei non riuscivano a credergli. Il milione è un titolo che gli viene affibbiato un po' come una presa in giro. È un titolo beffardo come dire è uno che spara delle cifre grosse questo Marco Polo. Come si fa a credergli? Perché raccontava ai suoi contemporanei una Cina troppo più grande di noi in tutti i sensi e troppo più ricca, più avanzata scientificamente, tecnologicamente. Per cui ci volle molto tempo e molti esploratori successivi, molti viaggiatori che raccontassero le stesse cose, che confermassero Marco Polo prima che lui venisse davvero preso sul serio. Perché quello che c'è nel milione è quasi tutto vero. E poi arriva un altro personaggio italiano fondamentale che è il gesuita Matteo Ricci, più di due secoli dopo Marco Polo, che non soltanto conferma Marco Polo ma porta un'autorevolezza ancora superiore perché Matteo Ricci è una storia anche questa molto importante che noi italiani dovremmo celebrare un po' di più. Matteo Ricci è un gigante del pensiero, è un grande scienziato, non è soltanto un sacerdote, un missionario, un evangelizzatore, è un matematico, è un astronomo, è un uomo di una cultura spaventosa che va in Cina, pensate siamo nella metà del Cinquecento, con una sorta di triplice missione. Quella ufficiale più scoperta è ovviamente portare il Vangelo ai cinesi. Anche se c'era già stato il cristianesimo in Cina, il cristianesimo nella versione nestoriana arriva con dei missionari dalla Siria nei primi secoli dopo Cristo. Infatti una delle sorprese dei gesuiti quando arrivano loro in Cina è di trovare dei cinesi che già si dicono cristiani. Poi la seconda missione di Matteo Ricci è quella di capire questa straordinaria civiltà, cercare di conquistarne le conoscenze e lui si appassiona della matematica cinese, studia il mandarino, traduce Confucio in latino. Per chi si rende conto di avere a che fare con una civiltà straordinaria, ha molto rispetto per la cultura dei cinesi. Ma c'è una terza missione segreta di Matteo Ricci, è una missione diplomatica, non è solo sua, diciamo che molti dei sacerdoti cristiani che vengono mandati in Estremo Oriente in quel periodo, devono anche andare a cercare un'alleanza geopolitica e militare contro l'altro Oriente, l'Oriente vicino a noi che è l'Oriente Islamico, perché ci sono delle superpotenze musulmane, ci sono dei sultani, dei califi che sono una minaccia strategica militare per l'Europa e c'è quest'idea che si è sedimentata già nel corso del Medioevo tra papi, re cristiani, che oltre le potenze islamiche, molto più a Oriente dell'Islam, ci possa essere un impero che è nostro amico e alleato. È la leggenda antichissima del prete Gianni, una figura mitica di un imperatore cinese che sarebbe cristiano e che potrebbe venire in nostro soccorso, in nostro aiuto per liberare la Terra Santa delle crociate. Insomma, questi sono i tanti temi che si accavallano, ma tutto questo in un'epoca in cui siamo noi ad andare a Oriente, alla ricerca di civiltà obiettivamente molto superiori, più avanzate dal punto di vista economico, tecnologico, scientifico. A un certo momento avviene una rottura nei rapporti di forze e si apre quel periodo, non brevissimo però, nell'arco dei 2500 anni, è un piccolo periodo della storia in cui noi siamo diventati più forti di loro e improvvisamente tutto si ribalta. Ora vedete, per finire un attimo, sul finire del nostro complesso di inferiorità verso l'Oriente voglio ancora segnalarvi velocemente tutta la vicenda affascinante dell'illuminismo. I grandi filosofi francesi che poi ispireranno la rivoluzione francese, Voltaire e Montesquieu, sono degli ammiratori della Cina che considerano decisamente superiore a noi come sistema politico. Questo è molto interessante perché poi è un tema che diventerà attuale nell'anno 2020 in cui viviamo noi. Comunque c'è nell'illuminismo francese quest'idea che la modernità, nell'arte di governare, bisogna andarla a cercare in Cina. Ecco, poi accade quello strappo storico che è la rivoluzione industriale. L'Europa diventa la zona più avanzata del mondo dal punto di vista tecnologico, economico, militare. Partiamo alla conquista dell'Oriente e lo conquistiamo. Vedete, qui c'è anche una vicenda molto interessante dal punto di vista culturale, perché quando noi siamo i leader, quando noi possiamo andare a conquistare colonie, c'è anche una volontà di organizzare scientificamente la nostra conoscenza dell'Oriente. E vedete, se voi oggi potete visitare, oggi è diventato complicato viaggiare, ma insomma, fino a sei mesi fa e speriamo tra qualche mese il mondo tornerà a essere un po' più normale. Ma se voi potete visitare delle meravigliose, prodigiose collezioni di arte orientale al Museo Louvre di Parigi o al British Museum a Londra, è perché i conquistatori europei, andando a colonizzare, volevano al tempo stesso fare un'opera scientifica di catalogare e organizzare la conoscenza storica di quelle civiltà. Per cui quando Napoleone partì, prima di tutto, alla conquista dell'Egitto, ma l'Egitto per lui era soltanto una tappa verso l'India, voleva andare a disturbare gli inglesi nella loro colonia più grande, voleva andare a conquistare l'India come Alessandro Magno. Beh, Napoleone si porta dietro anche un'armata di scienziati e comincia tutta un'opera di approfondimento della conoscenza scientifica dell'Oriente che ci darà, tramite anche alcune rapine di opere d'arte naturalmente, ci darà tutta l'orientalistica moderna. Interi dipartimenti di studi delle grandi università europee che fanno studi orientalistici nascono all'epoca in cui l'impero francese, l'impero britannico hanno delle colonie in Oriente e vogliono capire meglio quelle civiltà. Allora, dicevo, il momento in cui siamo noi più forti di loro, che dura 4-5 secoli, non è enorme, è sull'arco lungo della storia millenaria che racconto in questo libro, però è un momento importante perché improvvisamente tutto si capovolge e anziché esserci un orientalismo da parte nostra c'è un occidentalismo degli asiatici. Lo shock della conquista dell'India da parte degli inglesi, lo shock delle molteplici sconfitte militari della Cina nelle guerre dell'oppio contro gli inglesi, fa sì che le classi dirigenti di quei paesi improvvisamente sono loro ad avere un complesso di inferiorità e vogliono studiare l'Occidente, vogliono copiarci. E comincia un'altra storia molto interessante che è degli ultimi tre secoli, grosso modo, ma soprattutto la svolta più interessante è nella seconda metà dell'Ottocento in Giappone, perché i giapponesi sono i primi e i più bravi in questa operazione di emulazione a gancio dell'Occidente, cioè quella che viene chiamata la restaurazione Neiji, che in realtà è una rivoluzione, è una rivoluzione politica, amministrativa, sociale, tecnologica, militare, con cui il Giappone nella seconda metà dell'Ottocento diventa la prima potenza asiatica che può confrontarsi da pari a pari con noi. Quindi molto prima del miracolo giapponese, che magari avete in mente voi, che è il miracolo dopo il 1945, dopo Hiroshima, dopo la seconda guerra mondiale, c'è stato un altro miracolo giapponese nella seconda metà dell'Ottocento. E lì loro fanno questa operazione che diventa un'operazione poi studiata da tutte le altre nazioni asiatiche, cioè prendere il meglio dell'Occidente, studiare le tecnologie militari dell'Occidente, studiare l'industrializzazione di tipo occidentale, la finanza, la tecnologia, la scienza, ma calandole dentro un contesto di valori ancestrali, confuciani nel caso del Giappone, della Cina. Ognuno adatta questo Occidente alle proprie tradizioni e i propri valori. È un'operazione che riesce talmente bene che il Giappone diventa una superpotenza, sconfigge la Russia all'inizio del Novecento, in una guerra, ed è la prima volta che nel mondo moderno una potenza asiatica mette in ginocchio un impero bianco, come era l'impero degli Zara di Russia. E da quel momento il Giappone diventa un po' il modello in quell'area del mondo, perché poi le elite cinesi cominceranno a interrogarsi sul successo giapponese e così via. Poi in seguito tutti i miracoli asiatici più recenti, quelli che avvengono nell'epoca contemporanea, quindi dagli anni 50 in poi, hanno tutti guardato al Giappone, la Corea del Sud e poi ovviamente Singapore, Taiwan, la Cina stessa pur rimanendo con un regime molto molto diverso da quello giapponese, però Deng Xiaoping che è il primo leader cinese che decide di traghettare la Cina verso un'economia di tipo capitalistico, pur conservando il controllo politico in mano del Partito Comunista, Deng Xiaoping ha studiato l'esempio giapponese. Quindi questa è la fase dell'occidentalizzazione dell'Oriente. Però vedete nel libro, che ripeto è un libro di storia sui tempi molto lunghi, poi ci sono dei capitoli in cui vi porto, vi accompagno con me in viaggi trasversali, su tematiche che mi appassionano. Uno è il tema del ruolo della donna, perché Oriente e Occidente nel nostro immaginario collettivo da molto tempo è diventato anche una specie di deposito di idee sulle diverse relazioni tra i sessi, il ruolo della donna in Oriente. Federico, ti stavo ascoltando, sono Roberto Petti e sono arrivato. Io mi scuso se l'ho interrotto, purtroppo c'era l'autostrada bloccata e quindi sono arrivato. Ti chiedo, il capitolo sulla donna è particolarmente interessante. Da questo momento cominci a fare le domande tu, riprendiamo il formato. Il capitolo della donna forse è il caso di... sarebbe stata una mia domanda perché tu nel libro ci spieghi come la certezza che noi abbiamo di occidentali di essere superiori da questo punto di vista, di essere espressione di una civiltà più avanzata, in realtà se visto retrospettivamente cade in frantumi perché in realtà la storia del mondo orientale ci fa vedere che molte di quelle che noi consideriamo libertà negate oggi e conquistate invece dall'Occidente nell'Oriente erano pratica comune, ma forse tu ce lo puoi raccontare meglio perché questo è veramente indicativo delle differenze, come sono percepite e come sono nella realtà. Sì, grazie della domanda perché questo mi consente di parlare di uno dei miei capitoli favoriti. Ecco, faccio anche una premessa ulteriore. Vi ho detto all'inizio che questo è un libro di storia ed è un libro fatto anche come una specie di viaggio tra le mie letture preferite, quelle che per decenni hanno alimentato la mia vita in Oriente, le mie scoperte di luoghi nuovi. Quindi alla fine di questo libro troverete una cosa che di solito non metto nei miei libri che è una bibliografia, un elenco di tutti gli autori che mi hanno influenzato, da cui ho appreso tante cose. E in questo elenco di autori ci sono molte autrici, ci sono molte donne. Il capitolo sulle donne in particolare ha tanto debito nei confronti di alcune autrici straordinarie. Allora, gli stereotipi che noi abbiamo sulla questione della donna in Oriente sono tanti. oggi noi siamo convinti che in Occidente le donne complessivamente stiano meglio, che abbiano più diritti. Il che a volte è vero, a volte no, dipende se ci confrontiamo con la donna, la condizione della donna in India o con quella in Cina, che non sono la stessa cosa. Se andiamo un po' più indietro, nella nostra memoria storica, negli stereotipi che abbiamo accumulato, c'è quest'idea che l'Occidente è maschio e l'Asia è femmina, che è un'idea molto coloniale, molto legata ai tempi della conquista coloniale. L'Oriente come terra del piacere, come terra dell'erotismo, però un erotismo molto consumato dal maschio occidentale secondo le sue pulsioni e anche la sua voglia di prevaricazione. Tutto questo però fa parte di una storia molto recente, perché se invece andiamo alle origini, allora le cose cambiano. E qui mi piace cominciare proprio da una grande autrice italiana, che non c'è più, ma è stata una grande studiosa dell'antichità classica, Lidia Storoni-Mazzonati, ci ha raccontato nelle sue gallerie di personaggi omerici la figura di Elena di Troia in un modo totalmente originale. Elena di Troia è in fondo una donna europea, perché è una greca, che viene rapita e finisce sulle coste della Turchia. Troia è in Asia minore, quindi dall'Occidente va in Oriente, ma forse non è un vero rapimento, forse la sua è una fuga, è un'avventura extracomiugale ed è una donna che quindi segue il proprio desiderio e ha una forma di emancipazione. Allora vedete, questo apre uno squarcio su un'epoca in cui un'altra autrice donna, un'americana che è stata, è una femminista storica, un'intellettuale americana, anche lei è molto esperta di studi classici. Camille Paglia ha scritto delle cose interessantissime sul culto di Dioniso. La Dioniso è un dio greco che poi diventa bacco nella religione dei romani, ma in realtà è un dio immigrato, è un dio che viene da Oriente, è un dio asiatico. I greci avevano l'abitudine di accogliere anche dei culti esotici dentro le loro tradizioni religiose. Dioniso viene dall'Oriente ed è il dio che si oppone ad Apollo. Apollo è la razionalità, è il dio più maschile del pantheon greco. Dioniso è il dio il cui culto dà origine a una serie di tradizioni che ancora oggi sono vivissime anche sulle rive del Mediterraneo, che sono per esempio le baccanali. Dalle baccanali queste feste orgiastiche con tanta musica, tanta danza, alcol, droghe, sesso, danno vita poi nelle tante varianti a per esempio quelle tradizioni musicali che da noi sono la tarantella, la tamuriata, sono dei riti di origine religiosa, di origine dionisiaca, dove con tanta musica e tanta danza si libera l'energia sessuale femminile. Ecco che Dioniso rappresenta questo, Dioniso che è un dio che viene dall'Asia rappresenta un mondo dove l'erotismo femminile a quell'epoca è molto più libero che in Occidente. E vedete facendo un salto di parecchi secoli più avanti è il mondo che sorprende gli inglesi quando conquistano l'India e si imbattono nelle meravigliose statue erotiche delle dee indiane, in molti templi dell'India antica, si imbattono gli inglesi che vengono da una cultura puritana, siamo nell'Inghilterra vittoriana, si imbattono nel Kamasutra e anche qui c'è una studiosa donna americana del Kamasutra che mi aiuta a dare una lettura completamente diversa. Il Kamasutra è stato banalizzato come una specie di manuale di tutte le posizioni erotiche, di tutte le posizioni dell'amplesso, una specie di ginnastica sessuale, invece è un trattato di filosofia del piacere dove la donna è molto più libera che nelle tradizioni occidentali. Poi noi naturalmente abbiamo accumulato sulla donna orientale anche tesori di immaginario legati alla letteratura perché per gli occidentali il piacere orientale erano le mille e una notte, Sherazade, che in realtà è un capolavoro della letteratura araba ma ha origini molto molto più antiche perché le mille e una notte si ispirano a capolavori della letteratura persiana che a loro volta si ispirano alla letteratura indiana. Quindi il tema della donna che poi nel mio capitolo mi porta a viaggiare fino alla geisha giapponese e a tante altre reincarnazioni di questa figura femminile è molto importante nell'articolazione del bipolarismo oriente occidente. Tu hai, in questa tua risposta, hai sottolineato che in questo libro c'era un elemento appunto che normalmente nei tuoi libri non c'è, cioè una bibliografia. Però in questo libro alla fine c'è anche un altro elemento, una nota tua in cui racconti, in una paginetta e mezza, la genesi di questo libro. Cioè il fatto che hai cominciato a scriverlo mentre volavi da un continente all'altro, da una parte all'altra di un continente, poi improvvisamente per ragioni note hai dovuto fermarti e lì ti sei immerso in letture dei libri che avevi accumulato nelle tue diverse case. Allora io ti chiedo, volevo farti questa domanda, perché hai voluto inserire questa nota? E l'altra cosa, in che modo questo cambiamento di modalità anche ha inciso, si è inciso sulla realizzazione di questo libro, sulla sua genesi appunto, su quello che volevi raccontare? Allora sì, la notazione autobiografica, se vogliamo anche un po' banale perché tutti voi avete vissuto mesi e mesi di lockdown, quindi non c'è nulla di originale, però io l'ho voluta mettere per almeno un paio di ragioni. Una è che durante il lockdown qui a New York in certo senso mi sono costretto a riscoprire lo yoga che io praticavo dall'età di 15 anni, quasi mezzo secolo che faccio yoga, ma l'ho quasi sempre fatto in classe, con un gruppo di allievi, con un maestro o una maestra. Ho dovuto, a causa del lockdown, ricominciare a farlo da solo, come l'avevo fatto proprio quando ero 15enne, a volte, in certe circostanze, e questo mi ha anche obbligato a studiare un po' di più, andare in profondità. Grazie a un grande autore, Mircea Eliade, che forse ha scritto il più importante di tutti i trattati sullo yoga, ho dovuto fare anche, come dire, un atto di umiltà e riconoscere che 50 anni di pratica di yoga mi hanno comunque lasciato alla superficie di questa disciplina, che c'è molto, molto, molto di più da scoprire andando in profondità. L'altro elemento per cui ho parlato di questa esperienza del lockdown è che alla fine c'è anche la pandemia che fa irruzione nei rapporti tra Oriente e Occidente, perché le pandemie nella storia sono state delle tragedie che hanno scandito i rapporti tra Europa e Asia. È da tempi antichissimi che i virus viaggiano, ci sono spesso delle pandemie che sono state accadute. La caduta dell'impero romano molto probabilmente, secondo storici autorevolissimi che io cito, è stata accelerata dalla cosiddetta pandemia Antonina, che veniva dalla Cina anche allora, perché la Cina è stata, la Cina e l'India, ma più la Cina ancora dell'India, è stata quasi sempre il laboratorio inconsapevole, involontario di pandemie per una ragione molto semplice, una ragione oserei dire di probabilità statistica, essendoci là la massima concentrazione di specie umana e animale, animali domestici, è il laboratorio ideale per generare e partorire delle grandi epidemie che poi viaggiano, viaggiavano anche all'epoca delle caravelle, nelle stive delle navi, i topi trasportavano la peste, quindi non c'era bisogno di inventare il jet, viaggiavano un po' più lentamente ma viaggiavano e come. E allora nel capitolo finale rifletto anche su questo dato, cioè in un mondo in cui la nostra vita è stata stravolta, quali possono essere le conseguenze di lungo, lunghissimo termine di una pandemia come questa? Le pandemie nella storia, anche nella storia antica, sono spesse stati dei test di civiltà, hanno in qualche modo state delle prove talmente dure, talmente estreme da selezionare i più forti, non solo come individui ma anche come sistemi politici, come organizzazioni collettive, come civiltà imperi, ci sono delle civiltà intere che sono scomparse dalla faccia della terra in seguito a pandemie, penso un'altra zona del mondo, le civiltà precolombiane qui in America non sono state sterminate con le armi dai conquistatori spagnoli, in realtà sono state sterminate da una guerra batteriologica inconsapevole perché il tasso di mortalità del vaiolo, quando noi bianchi l'abbiamo portato agli indios, uccideva il 90%. Ci sono stati episodi così nella storia, anche lo spopolamento dell'Italia medievale dopo l'epidemia Antonina venuta da Oriente ha creato un impoverimento duraturo. E allora, ecco, rivedere tutta la vicenda della pandemia coronavirus, Covid-19, nata in Cina, alla luce di questa durata storica, diciamo, il catalogo delle pandemie del passato e dell'impatto geopolitico che hanno avuto anche sui rapporti tra Oriente e Occidente. Senti, proprio a questo proposito, innanzitutto permettimi di dire una cosa, un aspetto molto apprezzabile del tuo libro, oltre a raccontarci cose che non sono affatto scontate, è che in un mondo in cui spesso si scrivono libri per consegnare certezze, il tuo libro ci consegna molti dubbi. Anzi, c'è talvolta un lavoro proprio nel demolire alcune certezze o comunque di metterle in crisi. E questo l'ho trovato un aspetto molto interessante, anche perché poi è fatto con l'uso, appunto, collocando tutto in una prospettiva storica, quindi guardando, osservando l'attualità con una canocchiale che va ben oltre l'immediato. Tu però chiudi il tuo libro dicendo che in buona sostanza, come adesso in parte stavi anticipando nella parte finale della tua risposta, siamo arrivati in una fase in cui il mondo orientale stava recuperando terreno, stava recuperando la supremazia che aveva perso negli ultimi cinque secoli e la crisi sanitaria economica che ad essa segue potrebbe essere un acceleratore nel mutare i rapporti, per così dire, di forza, scusami, passami questo termine un po' banale, tra Oriente e Occidente. Ti chiedo se quello che è successo e che sta succedendo in questi mesi ti conferma in questa tesi o se invece qualcosa di diverso sta succedendo. Ottima domanda. Comincerei però prima ancora di risponderti con l'agganciarmi alla cosa che hai detto all'inizio, cioè che in questo libro non ci sono molte certezze. È vero, hai ragione, ed è così perché nella storia non ci sono molte certezze. Vedi, in questo libro c'è anche tanta storia della religione, perché le religioni sono state una componente importantissima del rapporto conflittuale o amoroso tra Oriente e Occidente, perché noi non ci siamo solo combattuti e opposti, ci siamo anche sedotti a vicenda. Le religioni orientali hanno avuto sempre un'importanza enorme, un'influenza enorme su di noi. In fondo, quando noi ci diciamo giudeocristiani, giudeocristiani, non dobbiamo mai dimenticare che stiamo parlando di due religioni orientali che nascono in Medio Oriente e che quando arrivano a Roma, quando arriva a Roma il cristianesimo, all'inizio viene percepito come una delle tante sette esoteriche sbarcate dall'Oriente. Greci avevano ben consapevole l'importanza della religiosità indiana nell'antica Grecia. Al tempo stesso però tutto il tema della religione orientale è stato oggetto anche di una sorta di grande mistificazione nell'Ottocento da parte dei romantici, i romantici tedeschi, per reazione di rigetto contro l'industrialismo, contro il materialismo della nuova rivoluzione economica occidentale, vanno in pellegrinaggio in India e poi anche in Cina alla ricerca della vera saggezza dell'anima, della trascendenza, della spiritualità. E allora ecco che la religiosità orientale, che è una cosa reale, millenaria, però viene anche reinventata dagli occidentali a loro uso e consumo e crea delle mode che non sono mai finite. Dallo yoga al buddismo californiano siamo ancora immersi in questo clima. Vengo alla tua domanda. Io penso che la pandemia sia uno di quei cataclismi che accelerano delle tendenze preesistenti. Il pendolo della storia stava già oscillando verso l'Oriente, verso un ritorno di centralità dell'Oriente. E per tante ragioni. Non ultimo il fatto che c'è così tanta storia accumulata in quella parte del mondo. Prima o poi la storia ama ritornare alle origini. E poi c'è tanta energia umana. Quello che mi preme sottolineare, però uno dei messaggi conclusivi del mio libro, quando dico che sì, questo sarà il secolo asiatico, a maggior ragione dopo il coronavirus e dopo che diverse società asiatiche hanno saputo reagire meglio di noi, quello che mi preme sottolineare è questo messaggio. Di Oriente non ce n'è uno solo. Non schiacciamo l'Oriente sulla sola Cina. Perché un conto è, anche dal punto di vista proprio dell'attualità, un conto è la risposta cinese al coronavirus, che è la risposta tipica di un sistema autoritario. Io ho vissuto cinque anni in Cina, ho continuato a frequentarla moltissimo, non ho un'ammirazione acritica per quel modello politico. ne vedo dei difetti enormi, raccapriccianti, che mi spaventano. Però la risposta efficace al coronavirus l'hanno data il Giappone, la Corea del Sud, Taiwan, che sono delle liberal democrazie, rispettano i diritti umani. E tuttavia hanno saputo attingere alla modalità confuciana di organizzazione della società civile per quella disciplina, quel rispetto delle regole che gli ha dato una marcia in più nella gestione della pandemia. Bene, senti, ti ringrazio. La nostra breve, purtroppo, ripeto, non per mia responsabilità, conversazione è finita qua. Io mi limito a fare un'ultima considerazione sul tuo libro. L'altro aspetto molto interessante che rende questo libro da leggere è che parla di mondi apparentemente lontani, ma in realtà ci racconta molto di noi. E questo credo che in una fase storica come questa sia particolarmente importante. Grazie a Federico Rampini, grazie a tutti voi e ancora scusa. Chiedo ancora scusa per il mio imperdonabile ritardo. Grazie a voi, grazie. E sono felice che tu ce l'abbia fatta in colme, visto... Esatto. Buona serata, grazie. Sento gli applausi, vi ringrazio. Arrivano anche a New York. È quasi una standing ovation. Così come a Pordenone, negli ex libris, c'è la mia firma vera, uno per uno, l'autografo. E mi sono messo qua nel mio studio a New York a firmarli uno per uno, quegli ex libris, l'autografo che finirà dentro i miei libri. Bene. Grazie ancora, grazie a te Federico. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.